Siamo all'Assemblea Nazionale dei Consorci di Bonifica con il Presidente dei Consorci di Bonifica Toscani, Marco Bottino, di Ambi Toscana. Presidente, quali sono i temi di questa Assemblea e quali sono le sfide per i Consorci di Bonifica Nazionali e Toscani? I temi principali sono l'utilizzo dell'acqua in rigua in agricoltura e tutto quello che ne consegue. I Consorci non dilapidano l'acqua che gli arriva nei canali ma la utilizzano e poi la diranno indietro più pulita. L'agricoltura è un settore di primaria importanza a questo Paese e quindi l'acqua e l'irrigazione sono due temi fondamentali. Poi c'è tutto il grande tema che forse riguarda più da vicino alla Toscana che è il tema della difesa del suolo e di come si salvaguardano i luoghi e i suoli dal dissesto idrogeologico. Su questo i Consorci Bonifica italiani e quelli toscani sono in prima linea, stanno combattendo una battaglia che da anni si sta dispiegando sul territorio per garantire ai territori sempre maggiore sicurezza. In questa battaglia lenta e faticosa siamo protagonisti in Toscana con molte iniziative, con il nostro lavoro quotidiano e anche con tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che i Consorci mettono in campo quotidianamente. I Consorci di Bonifica Toscani sono stati anche al centro di una riforma solo qualche anno fa. A che punto siamo con lo stato d'attuazione della riforma e con l'approvazione quindi dei nuovi piani di classifica che la Regione Toscana ha richiesto ai nuovi sei Consorci di Bonifica Toscani? La riforma è ormai nella sua fase attuativa piena, per non dire nella fase finale, tant'è vero che entro questa settimana cinque Consorci su sei porteranno in assemblea i piani di classifica, due l'hanno già fatto, il Consorcio Bonifica Tremmedio Valdarno e il Consorcio Bonifica Basso Valdarno, altri due procederanno a farlo nei prossimi giorni e anche il Consorcio Toscana Sud di Grosseto lo ha fatto. I nuovi piani di classifica che poi vedranno l'approvazione da parte della Regione Toscana costituiranno l'applicazione pratica della legge 79 e quindi saranno fondamentali per l'emissione del nuovo tributo che riguarderà anche città come Firenze, Siena e Lucca che nel caso di Siena e Lucca non hanno mai pagato il tributo, nel caso di Firenze l'hanno pagato solo parzialmente. Naturalmente al pagamento del tributo dovrà continuare a fare seguito il paziente attento e capillare lavoro di manutenzione che i Consorci di Bonifica fanno su tutto il territorio.